L'invenzione di Pacinotti si basò su questa idea, un anello di ferro attorno a cui sono a volte delle spiri di filo. L'idea era questa, prendiamo una barra di ferro cilindrica, diritta, attorno a cui ci sono delle spiri di filo a volte in cui mando una corrente elettrica. Diventa un'elettrocalamita che ha un polo nord da una parte e un polo sud dall'altra. Quindi è un'elettrocalamita in cui la barra di acciaio è esattamente una calamita. Cosa succede, questi Pacinotti si chiese, se io prendo questa barra di acciaio e la piego fino a formare un anello. Quindi il polo nord va a finire col polo sud e spariscono i poli magnetici. Che cos'è questo oggetto a questo punto? Non è più una calamita. E diventa l'anello di Pacinotti. Che è questa?